E' uscito ieri il rapporto Pendolaria 2015, il dossier stilato da Lega Ambiente sulla situazione del trasporto ferroviario italiano. Il rapporto mette a nudo le lacune del trasporto pubblico su rotaie italiano, non mancando però di evidenziare quanto di buono è stato fatto per migliorarlo. In questa indagine la Toscana viene dipinta con tinte positive, che la classificano tra le regioni italiane più virtuose in materia di taglia e servizi, anzianità dei treni, circolazione e investimenti nel materiale rotabile. Non mancano nel rapporto gli aspetti più controversi e nel capitolo del dossier intitolato L'incubo dei pendolari vengono riportate tutte le richieste e le preoccupazioni che affliggono i pendolari valdarnesi, dalla questione direttissima alla maggiore puntualità dei treni, all'ampliamento dei parcheggi delle stazioni. Come detto però il quadro generale è confortante, soprattutto se paragonato ad altre realtà italiane e già nella serata di ieri sono arrivati i primi commenti da parte di Vincenzo Ceccarelli, l'assessore regionale Trasporti. Ancora una volta, commenta l'assessore Ceccarelli, il rapporto pendolaria di Lega Ambiente mette a nudo i molti problemi che il trasporto pubblico locale ha in Italia, ma evidenzia l'impegno profuso della Toscana sulle ferrovie regionali. Numeri alla mano scopriamo che la Toscana resta la regione con il più alto rapporto tra abitanti e numero di treni. Ma soprattutto, continua Ceccarelli, il rapporto evidenzia come l'età media dei treni circolanti in Toscana sia oggi di 12,5 anni, ovvero la più bassa di tutte le regioni italiane, con una media nazionale vicina ai 19 anni, con punte di 26. Per fare questo abbiamo investito sul materiale rotabile 443 milioni in 10 anni e messo in servizio oltre 50 nuovi treni solo negli ultimi due anni. Ceccarelli continua riprendendo il dato dei tagli ai servizi, solo il 3,7% nel quinquennio 2010-2015, ma nessuno dal 2011 in avanti. E sottolinea gli investimenti fatti dalla regione toscana per migliorare i servizi, portando come esempio i 235 milioni investiti per il raddoppio della tratta ferroviaia Pistoia-Lucca. Siamo consapevoli che restano ancora da risolvere alcuni problemi, conclude l'assessore, ma credo che nessun'altra regione abbia investito sul ferro quanto la Toscana da due anni a questa parte. Questi sono dati certi, al di là di tutte le letture, anche strumentali, che dei numeri si tenta di dare.